Ehi! Ehi Banana! Sì, cosa c'è? Ehi Banana, cosa stai facendo? Sto guardando in giro? Con il mio amico. Vero? Vero. Come va? Come va? Che è tutto? Wow, chi è quello? È un limone. Come va? Come va? Come va? C'è un kiwi. Ehi kiwi. Come va? Come va? Ehi! Wow, chi c'è? Come va? Come va? Come va? Ehi! 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 Ehi Banana! Sì, cosa c'è? Cosa stai facendo? Sto guardando in giro? Con il mio amico. Vero. Vero? Vero. Un giusto, un giusto, un giusto, un giusto, un giusto. Ehi!